ciao a tutti questo breve video è utile per capire di cosa si tratta quando si parla di pirografia allora quello che vediamo è un pirografo base con 9 punte diverse a una temperatura fissa e serve per fare disegni di questo tipo cioè monocromatici con un'unica colorazione però come vedete si possono ottenere dei risultati davvero carini questo ad esempio è un cavallo fatto in negativo e poi qui invece facciamo lo stesso cavallo nell'altro senso questo invece un pirografo con temperatura regolabile e punte a filo questo ci permette di fare delle sfumature come vedete questa tigre è stata sfumata qua vediamo una zebra riusciamo a controllare meglio il colore proprio perché la temperatura è regolabile qui vediamo alcuni degli esempi di cui abbiamo parlato prima la tigre il cane la zebra il cavallo sia negativo che positivo sono solo degli esempi per farvi vedere cosa si può fare con il pirografo se siete interessati e non avete mai provato potete anche acquistare questo libro la tecnica della pirografia un libro di base proprio per spiegare come partire a chi non ha mai provato se vi interessano pirografi e tutti gli accessori necessari per la pirografia vi aspettiamo sul nostro sito elettronicadidattica.com ciao a tutti a presto